Era uno scherzo, in realtà, quello che mi ha appena detto vi odio, è lui la starda e la serata, avevo scherzato. Beh, bello uguale, no? Un applauso a Mauro e Antonio! Si sa che i camali di genere sono tra i migliori del mondo. Allora, put your hands together. Applauso. Grazie. 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 Applauso. Grazie. 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 A me cand dunk. Grazie.